ventotto d'agosto ora io ragazzi non vedo nessuno spero bene ancora ci voglio ancora sperare anche se sembra che nemmeno Calulu sia andato bene perché Bayern guarda caso il Bayern chi va a inquadrare come sostituto di Pavard va a inquadrare un giocatore di Milan ma guarda che sculo dio buono proprio Calulu con tutti i giocatori che ci sono i Bayern voleva Calulu ovviamente hanno appena detto che eh in Milan gli ha fatto Maramau anche perché Calulu è migliorato tantissimo può giocare sia centrale che esterno destro giocatore bravo veloce rapido potente Milan lo valuta sui trenta milioni sembra che nemmeno Calulu possa andare possa andare per liberare questo leone in gabbia che non fa altro che metterci like che è Pavard è Saladì vediamo eh ventotto vediamo se nelle prossime ore succede qualcosa no non voglio parlare di Pavard ma però siccome posso dire tranquillamente dov'è Zhang Zhang dove Pavard dove dove sono Zhang e Pavard te lo dico io non ci sono per ora ventotto agosto non ci sono né Pavard e né Zhang occhio ai Cagliari te lo dico subito perché Ranieri non è l'ultimo degli allenatori Ranieri è un allenatore sa gestire molto bene le pressioni che sa preparare le partite importanti molto bene ha tantissima esperienza e di Cagliari per quel po' e l'ho visto secondo me è una squadra che visto che che ha anche una buona forma fisica anche se gli mancano mi sembra due titolari è una squadra che gioca con intensità fa pressing e soprattutto tenta a verticalizzare il prima possibile quindi le squadre che recuperano palla e verticalizzano sinceramente io ci starei sempre attento perché lo fanno un po' stesso palla ma fanno un po' stesso palla e poi dopo appena cioè fanno pochissimo eh non non fraseggiano tanto come noi la recuperano fanno un po' di possesso boom verticale boom verticale quei due davanti occhio anche soprattutto a Ristagno per il sinistro che ha e quindi bisogna vincere ragazzi non farsi non pensare al mercato non pensare a Pavard non pensare a nulla bisogna andare a Cagliari prendere tre punti ieri lo hai visto cosa è successo la faccia di Teago Motta che è un allenatore che a me piace tantissimo la faccia di Teago Motta ti dice tutto ragazzi nel calcio italiano purtroppo ci purtroppo ci devono tenere un po' in piedi tutti però questo non vuol dire tenere in piedi questo vuol dire secondo me cioè come fai a fare quelle robe a me non piace parlare degli albiti però ragazzi abbiamo visto delle cose ieri sera veramente amati vedi non solo Mancini si doveva dimettere anche Gravina chi comunque non si è mai preso le sue responsabilità e se è stato lì su quella poltrona non fare nulla secondo me prima di dimettersi Mancini si doveva dimettere Gravina poi anche anche tutte queste storie del VAR ragazzi cioè veramente io non ci voglio entrare l'avete già detto tutto voi non ci voglio entrare per quello che riguarda l'Inter poi più tardi farò un altro video magari a Cerbi non ce la fare recuperare purtroppo gli anni si fanno sentire darmi anni acciaccato ti dico come la penso io i zaghi fai giocare turam non incominciare con il turnover non c'è da fare nessun turnover fai giocare turam che ha bisogno di giocare e di trovare fiducia poi dopo fai tutti i cambi che ti pare a Mkhitaryan sicuramente io per ora non rinuncerei ma ma ti dico che non rinuncerei nella partita di stasera nemmeno a Frattesi che è l'unico che ti può dare quella fase difensiva che ti manca visto le condizioni che hai in difesa dietro quindi io Frattesi lo farei giocare ma anche per soprattutto per gli equilibri tra i reparti e per gli inserimenti Frattesi io stasera lo farei giocare ma in zaghi molto male metterlo terrà in panchina lo farà entrare dopo comunque ricordatevi che a Cagliari non sarà una passeggiata quindi poi secondo me vedi cioè il calcio mercato quando incominci il campionato dovrebbe finire perché alla fine condiziona un po' tutti condiziona i giocatori condiziona gli allenatori e capito cioè incominci il campionato basta calcio mercato lo devi far finire ma che lavoro lei e quindi ragazzi anche io aspetto Pavard come voi per ora non lo vedo Zang dov'è Zang dov'è Pavard dov'è per ora non c'è nessuno io aspetto fiducioso qualcuno parla della supposta Borucci io non ci voglio nemmeno pensare a questa roba qui già abbiamo evitato il suppostone Zapata ma la supposta Borucci ecco se portano Borucci e Quadrado allora a quel punto veramente a quel punto basta ce lo dicessero ma non penso che arrivino a tanto quindi io ancora un po' una piccola fiammella accesa anche se mancano meno di cento ore alla chiusura del mercato ce l'ho questa è una squadra che ti ripeto ad oggi è più debole di quella dell'anno scorso è vero che nel reparto offensivo puoi contare su quattro elementi mentre l'anno scorso con il ballerino potevi contare su tre ma ad un certo punto l'anno scorso nel reparto avanzato hai contato su due perché Lukaku è saltato mezzo campionato quindi solo come presenza sei migliorato ma a livello globale questa squadra a me ad oggi spero venga fatto qualcosa sul mercato e che soprattutto venga investito questo grande tesoretto che non si sa dove me lo metto investi tesoretto pavar o non pavar e te lo ripeto oltre pavar c'è vita importante investire tesoretto non vorrei però poi dopo io dire no siamo arrivati tardi tesoretto lo conserviamo per gennaio no 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 tesoretto va speso subito gennaio non conservi nulla il tesoretto va speso una pavar o non pavar ci becchiamo dopo ciao a vintes a vintes a vintes a vintes